ciao a tutti benvenuti alla rassegna stampa di scazzo moderato oggi una domanda molto semplice cosa diavolo sta succedendo negli stati uniti d'america è un casino totale è un casino totale perché come dice un vecchio proverbio tempi facili generano uomini deboli e l'uomo deboli in questione è non solo joe biden ma in generale tutta la cultura e il meccanismo diabolico che ha portato joe biden al potere negli stati uniti d'america cominciamo con una roba che veramente già lì capisci la follia totale che sta attraversando quel paese e per esteso l'occidente intero comunque giusto per chiarire usa donald trump condannato per diffamazione oltre 83 milioni di dollari di risoluzione a gene carroll allora io di questa cosa qui ne avevo già parlato l'anno scorso ne avevo parlato prima quando era iniziato il processo poi per farvi per insomma aggiornare su come era finito il processo ovvero praticamente cosa è successo che questa gene per chi non si ricordasse il video magari per chi si è iscritto al canale da poco o semplicemente ha la memoria corta questa gene carroll di 80 anni credo che lei abbia due o tre anni più di trump lo ha denunciato dicendo che lui l'aveva molest violentata dentro un centro commerciale a new york nello spogliatoio della sezione intimo ok trump ha sempre negato questa cosa praticamente il processo però è andato avanti la corte ha detto che la sua diciamo la sua denuncia di essere stata stuprata era veritiera ma il processo era finito in prescrizione visto che sono passati credo che lei abbia detto che è successo in un qualche momento non si ricorda neanche precisamente la data pensate che buffonata di processo in cui non c'è neanche una data non ci sono prove ci sono solo le chiacchiere di una tizia comunque credo in un qualche momento fra 1986 e 1987 ok quindi nel 2023 si celebra un processo per uno stupro affrontato che forse è successo fra l'86 e l'87 una cosa che già qualsiasi persona sana di mente direbbe ma di cosa stiamo parlando di niente va bene se tu non l'hai fatto quella volta anche anche se fosse vero che sei stata stuprata da Donald Trump mi dispiace ma dopo 40 anni non è più oltre ovviamente al fatto che secondo me questa cosa puzza di operazione costruita a tavolino in una maniera disumana perché perché casualmente no fanno il processo lei ha ragione ma tanto non succede niente perché è andato in prescrizione allora non farlo direttamente il processo qual è lo scopo di fare il processo lo scopo di fare il processo ovviamente screditare l'avversario politico numero uno del partito democratico americano punto ora cosa succede che alla fine di questo quindi da un lato lui diciamo viene riconosciuto colpevole di uno stupro che però non porterà conseguenze perché il reato è prescritto dall'altro Trump che non è un tranquillone e ogni tanto diciamo alla favella ma in questo caso però come fai anche a dargli contro nel senso Trump ha iniziato a dire questa è pazza questa è fuori di testa questa è stata pagata da qualcuno a coprire di insulti in ogni modo possibile dal social dal suo social media che si chiama truth che è una specie di 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 competitore diciamo di twitter sulle interviste televisive la copriva di insulti e tutto quanto a quel punto lei gli ha fatto causa per diffamazione perché lei ha detto tu mi stai diffamando in quanto il processo ha detto che io ho ragione che quindi c'è stato lo stupro pertanto tu non puoi dire che io sono una pazza furiosa eccetera ed è lì che lui ha perso di nuovo il processo per diffamazione in quanto lui dice che non è vero e che lei è una pazza furiosa sconclusionata ed è stato multato diciamo con un'ammenda di 5 milioni di dollari il problema è che Trump di 5 milioni di dollari probabilmente non frega niente o forse ha pensato che ormai mi hanno dato 5 milioni li ho pagati quindi da qui in poi me la passo liscia tranquillamente e quindi ha continuato a coprire di insulti questa qua dicendo se è una pazza una furiosa o una c'è un disegno politico dietro qualsiasi cosa e quindi gli avvocati hanno fatto un secondo una seconda causa per diffamazione e questo è il risultato della seconda causa di diffamazione 83 milioni di dollari di risarcimento ora se io da un lato capisco anche che tu dici io cioè tu il giudice o la giuria o la legge dice caro Donald Trump ti sei già beccato 5 milioni di multa per aver diffamato questa persona te la smetti di diffamarla lui dice no io continuo e lo dicono bene allora adesso il prossimo processo ti aumentiamo ancora di più però fermo restando che tutto il cosa già all'inizio è un circo equestre che di cui veramente un paese un paese normale non avrebbe bisogno di cose del genere perché come ho ripetuto il processo è una buffonata già dall'inizio comunque cosa succede? che gli avvocati di lei hanno chiesto nel secondo processo e credo che qui non ci sia nemmeno scritto 23 milioni di dollari di risarcimento ah no no invece c'è scritto guarda l'avvocata che si chiama l'avvocatessa che si chiama Roberta Kaplan aveva chiesto un risarcimento di 24 milioni di dollari per aiutare la sua assistita a ricostruirsi una reputazione che sistema legale è quello per cui una persona diffamata deve ricevere dopo che ne ha già presi 5 milioni altri 24 per ricostruire la sua reputazione come dovrebbe usare quei soldi? non mi è chiaro non mi piace ci sono un sacco di punti che non sono veramente chiari in questa cosa ma la cosa allucinante è che invece a fronte di una richiesta di 24 milioni di dollari da parte dell'avvocatessa di questa Jean Carroll i giudici hanno deciso che il totale doveva essere 83 milioni 83 milioni a una donna di 80 anni per ricostruire la donna non ha un senso sta cosa è solo un modo di di rapinare il più possibile Donald Trump per dissuaderlo da da essere Trump e diventare e ritirarsi a vita privata per il resto dei suoi giorni non c'è altra spiegazione 83 milioni di dollari di risarcimento per aver detto che una che l'ho accusato di averla stuprata nel 1986 non si sa nemmeno è una pazza furiosa e tu le regali 83 milioni a una che probabilmente nella vita non so cosa ha fatto ma di sicuro non ha guadagnato centinaia di milioni di dollari e quindi non si capisce perché dovrebbe finire i suoi ultimi anni ricca in una maniera incalcolabile cioè è una roba da fuori di testa va bene fuori di testa ma andiamo avanti perché la follia che riguarda Trump non è finita qua aspetta qui la devo far vedere bene allora questa qui ok questa qui è la giudice capo della Georgia anche lei sta facendo ha messo su in piedi tutto un circo per condannare Trump per influenze elettorali brogli cioè capito una giudice democratica che vuole ingambiare Trump per brogli elettorali cioè già sta cosa fa ridere già sta cosa è va bene va bene siamo nel mondo al contrario e quindi o il mondo alla rovescia come diceva il generale lì comunque il problema qual è perché questo questo sta diventando un problema inverso perché sta andando a colpire indietro invece la favella democratica ok allora lei praticamente ha assunto tre chiamiamoli procuratore distrettuale cioè comunque qualcuno che faccia le indagini in sua vece raccolta delle informazioni delle prove mettere insieme il caso tutto quanto come diciamo è normale che sia previsto dal codice penale americano ma c'è un problema che fra le tre persone che ha assunto per fare tutto il lavoro eccetera che devono essere a loro volta tre giudici e prosecutor se li chiamano gli americani ok i quali vengono pagati cifre esorbitanti per fare le loro indagini per fare il loro lavoro ha assunto anche quest'altro personcino giudicino qua il quale si è beccato come dicevo una cifra esorbitante per andare avanti con le sue indagini raccolta prove e via dicendo un bel 650 mila dollari dei contribuenti solo uno dei tre ok più gli altri due ora già la cifra sembra spaventosa solo a menzionarla ma il problema non è quello perché evidentemente se lo ha fatto è perché è previsto che chi deve fare queste indagini spenda un fiume di soldi il problema è che l'uomo assunto dalla giudicessa per perseguire Donald Trump che è un caso molto importante molto grosso e quindi dovrebbe essere uno assolutamente con almeno un po' di esperienza in quel tipo di casi e in casi grossi eccetera in realtà è uno che di esperienza ne ha zero in queste robe qui diciamo un impiegato statale di quarta categoria il quale però guarda caso è l'amante della giudicessa o giudicessa e quindi adesso sta venendo fuori un casino del 48 perché i repubblicani hanno scoperto questa cosa è già fuori da vari giorni lei non ha non ha potuto negare il che già è una missione di colpevolezza e quindi hanno iniziato a dire giustamente tutto il processo è da rifare perché lei ha fatto un casino sta regalando soldi al suo amante e ha preso una persona che non è assolutamente competente per l'importante incarico che gli è stato attribuito il che è un problema come dicevo enorme per i democratici perché questo della geosa fra i vari processi che la giustizia politicizzata americana ha messo in campo nei confronti di Donald Trump e ripeto giustizia politicizzata perché il solo fatto che si è iniziato un processo riguardante uno stupro avvenuto nel 1986 e ti fa rendere conto che il partito democratico usa la giustizia per punire chi sono i loro avversari politici ma in questo caso specifico fra tutti i vari processi è quello che aveva più probabilità di portare effettivamente Trump in gabbia cioè di metterlo fisicamente la persona Donald J. Trump di metterlo in galera il che ne avrebbe distrutto ovviamente la campagna elettorale perché per quanto credo che se non ho capito male la legge americana ti permette tranquillamente di fare campagna elettorale anche se è in galera oggettivamente penso che c'è una parte consistente dell'elettorato che non voterebbe un uomo che sta facendo la campagna elettorale dalla galera anche se si chiama Trump anche se è evidente che è tutta una buffonata e alla fine dei conti sappiamo che per vincere le elezioni si parla sempre di piccole percentuali basta spostare 2, 3, 4% e hai fatto tanto hai tutto l'elettorato programmato che voterà sempre e comunque dove gli dice il partito con cui si sono tatuati il DNA e perché ormai è una fede religiosa più che un pensiero critico quello di votare per un partito piuttosto che un altro e se questo crolla ovviamente non è che crolla il processo ma nel momento in cui viene fatto fuori uno dei giudici per le indagini preliminari e viene fatta fuori la giudicessa capo di tutta l'indagine e quindi bisogna ripartire da zero con gente nuova la tempistica non permetterà il sistema giudiziario americano usato come arma politica di mettere Donald Trump in galera prima che ci siano le elezioni e tutto il giochino è lì riuscire a mettere Trump in galera prima che ci siano le elezioni perché se ci sono le elezioni e lui vince il giorno dopo ovviamente lui alla galera gli fa ciao col fazzolettino bianco a tutti i giudici criminali che regalano soldi ai loro amanti gli fa ciao col fazzoletto bianco e quelli che finiranno in galera sono loro perché quello che sta facendo il partito democratico negli stati uniti d'america è qualcosa di così oltraggioso che io mi aspetto mi aspetto che questa volta l'amministrazione Trump sia ancora più dura e ci sia veramente una rivolta seria verso tutte quelle istituzioni corrotte che stanno distruggendo gli Stati Uniti d'America e per esteso l'occidente me lo aspetto ma dopo non è che potranno piangere ah è arrivato il dittatore no l'avete creato voi con i vostri processi farsa il dittatore quando arriva la vendetta del dittatore quando il dittatore magari chiuderà televisioni che hanno raccontato balle su balle su balle su Trump roba che era smentibile anche da un somaro come me che vive a Dubai che sta a non so 15.000 km da Washington e questi in diretta televisiva giornalisti stratitolati che prendono milioni di dollari all'anno raccontavano delle balle clamorose quando poi arriverà Trump e dirà boh sto giro la festa è finita io vi punisco veramente se veramente vi do delle mazzate che non avete mai visto nella vostra vita non è lui il dittatore siete voi i criminali che stanno subendo la giusta punizione per i loro crimini e questo è la cosa è questo che succederà speriamo adesso il video dura 16 minuti quindi direi che siamo a posto così vi parlerò in un'altra occasione di quello che sta succedendo in Texas ma è anche lì qualcosa di veramente oltraggioso una roba da 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 film di serie B cioè sono dei personaggi dal film delle caricature di personaggio perché uno scrittore serio non scriverebbe dei personaggi che dicono le boiate che dice sta gente qui è una roba assolutamente imbarazzata comunque giusto per farvi il riassuntino ok l'unificatore Joe Biden quello buono quello bravo quello che è stato eletto perché lui avrebbe dovuto mettere insieme tutti gli americani e far riscoprire l'anima stessa dell'America the soul of America sostanzialmente sta cercando di portare di portare il Texas alla guerra civile contro il governo degli stati giudizi d'America una roba che non si è mai vista nella storia d'America sta succedendo adesso coi democratici col presidente unificatore dovrebbe quello che doveva unificare il paese l'abbiamo visto come l'ha unificato bene comunque spero di avervi dato delle informazioni interessanti e qualche spunto di riflessione come sempre se vi è piaciuto questo video date un cazzottone al pulsante mi piace fatemi sapere come la pensate con un bel commento qua sotto e soprattutto iscrivetevi ai canali se non siete ancora iscritti per aiutare scazzo moderato a crescere e soprattutto quindi a portare più informazioni più punti di vista diversi visto che c'è un pensiero unico insopportabile che alleggia in tutti i socialist media e quindi voi mi potete aiutare a far crescere questo canale iscrivendovi e condividendo i video di scazzo moderato detto questo ci vediamo al prossimo video state informati ciao ciao